Onoranze e funebri tecnologiche Highlander Come cazzo hai scritto Highlander? Sembra un centro scommesso Tra i nuovi ci besti? Ma ci pensi che tra poco ti sposi? Figo! 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 Questa deve morire. Cosa? A baller si mangia il tono. Che smangia? Speriamo che vada tutto bene. E vediamola sta porcellina locale. Clic, capito? Ma non sono io. Ma che non vedi che non sono io? Ce ne dobbiamo andare da qua. Tu non puoi stare più. Noi giù abbiamo delle onoranze e funebri particolari. E di che cifre si trattava? 30.000 euro. Ha detto no. Tu ci deve dare i soldi. Sono al pappagallo. Ti tagliamo l'orecchio. Prima un buon cacciatore non è solo nei piedi. Qui dobbiamo cambiare la tua immagine. Vai, vai, vai! Quanto costa questo? 1.200. Pure se sta difettato. Mancano le maniche, signorità. Io farei un brindisi al nuovo bomber del Milan. Se mi dai 1.000 euro stasera vengo a casa tua e faccio tutto quello che vuoi. Se vieni a casa con 1.000 euro minimo mi devi ristrutturare il soggiorno, la camera da letto e il bagno. La notte so che pensi a me, amore. Sei, ma perché non vi prendete un cazzo di su per vi mettere sulla strada? Ma dove sei? Io dove sei? Già da subito. Mi scelgono la cabina a telefono. Senti, è un cazzo di condimento su questa pizza. Che c'hai? Funghi, funghi. Che ne le buste? Non lo so, sarò in usanza del posto. Come stai? Che ci fa Lella sulla tua spalla? Chi è Lella? Lella è mia cugina di parete. Anche a me piacerebbe andarmene un giorno quando sarà così volando. E la troviamo una mongolfiera, signora? Qual è il problema?